per vedere un po con un po più profondo visto che i giorni di di hanukkah sono collegati con la sfira del od od è una delle sfira sfirotte poter più basse e la caratteristica del od ne abbiamo parlato anche in passato che od viene dalla parola le odot le odot vuol dire sia ringraziare ma vuol dire anche le odot vuol dire le odota la emet vuol dire ammettere la verità il lavoro di questa festa e ammettere la verità e anche ringraziare vediamo cosa vuol dire vuol dire che 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 in questi giorni è un periodo particolare non parevi particolari periodo particolare in cui possiamo collegarci appunto con questa sfira della mettere la verità e in questi giorni abbiamo più forza vuol dire che durante l'accensione delle delle candele di hanukkah si si riversa su di noi una forza e una forza di 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 una forza si chiama una forza spirituale che ci dà la forza di 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 riconoscere ammettere la verità qual è la verità l'abbiamo studiato come dice rabbina ma la vera verità è che dio è tutto è dio che tutto è dio che esiste solo uno come dicono in ebraico si dice in ebraico è not mi vado il la forza di hanukkah che ci dà la forza di capire che non c'è nient'altro se non dio non c'è nient'altro all'infuori di lui e quando abbiamo capiamo questa cosa qua ci rendiamo conto che che tutto quello che abbiamo tutto quello che ci succede tutta la vitalità di fare qualsiasi cosa tutto viene da lui tutto viene da lui tutte le feste o tutte le mitzvot in generale che sono i precetti vengono per inserirci nel cuore nella mente l'unicità di dio ognuna con una sfumatura diverso un modo diverso un colore diverso siamo sette miliardi di persone così anche nella nostra anima abbiamo una marea di parti dell'anima una marea di parti del corpo quindi ogni mitzvah e ogni festa viene a ogni precetto e ogni ogni festa viene viene a insegnare a una parte della tua anima all'unicità di dio che dio è uno perché l'uomo è composto da una marea di parti una marea di parti e ogni pezzetto dell'anima è unito con gli altri pezzi deve arrivare a questa consapevolezza è la stessa cosa anche tutto il mondo il mondo è composto da una marea di persone ognuna delle persone deve deve arrivare a questa consapevolezza per poi riuscire arrivare tutti insieme alla consapevolezza che la vera verità che tutto è uno che dio è uno è tutto è dio e quanto godimento una persona ha l'anima quanto godimento ha quando arriva questa comprensione ogni persona che è arrivato anche una minima ha avuto un istante che ha capito che tutto è uno è un godimento che è inspiegabile per quello che dobbiamo cercare di arrivare a quello perché tutti in un istante ti senti come circondato immerso nel suo amore che è fantastico e questo si può sentire con ogni mizvah ogni persona può collegarsi con ogni mizvah così spiegherà puoi arrivare a quello in particolare se abbiamo l'intenzione corretta vuol dire che prima che fai una mizvah vuol dire un precetto deve avere la giusta cavana si dice cavana è l'intenzione e quindi più più in pratica abbiamo perché le persone studiano per per sapere cosa stai facendo quando stai facendo una mizvah o stai facendo una festa perché studiamo cos'è la festa perché in pratica quando abbiamo l'intenzione corretta possiamo ricevere la luce della mizvah o della festa ancora più forte al quadrato al non so come si dice più alto del quadrato però moltiplicata super potenziata possiamo a volte anche addirittura arrivare a facendo anche solo una mizvah arrivare a assaggiare il sapore del ganede del del paradiso in questo mondo possiamo tirarlo giù fino a questo mondo perché la sensazione è come rendersi conto che tutto che tutto è uno e che tutto è per il bene una persona che riesce a avere anche questa sensazione per pochi istanti è un godimento enorme è come nel mondo avvenire nel mondo avvenire ti renderai conto che tutto quello che hai passato è tutto per il tuo bene ok c'è una pienezza con tutta la creazione nel momento che arrivi a far quello ti senti pieno infatti come diciamo noi pace in ebraico si dice shalom ma shalom vuol dire anche pieno c'è una pienezza che è inspiegabile è inspiegabile anche se adesso fuori ci sembra tutto diviso ci sembra tutto 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 diviso c'è questo c'è quello c'è quello sono tante cose divise uno è tutto il contrario di quello che stiamo dicendo che è tutto uno ci sembra un mondo o una vita piena di mancanza quello gli manca quello quello gli manca quello quello vuole quello anche noi mangiamo adesso tra tre ore quattro ore abbiamo fame di nuovo ci manca da mangiare ognuno è pieno di mancanze in realtà quindi è molto difficile capire che in realtà è tutto il tutto il mondo è pieno giusto ma in realtà la 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 concezione la realtà il punto quello che noi dobbiamo arrivare è riuscire a connetterci con questa luce primordiale ok dobbiamo concentrarsi per per arrivare a concepire questa luce primordiale che era la luce come c'è scritto che che prima della creazione del mondo che tutto era uno giusto ed è connesso anche con 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 hanukkah anche quello abbiamo detto in passato però è buono ripetelo noi durante hanukkah il primo giorno accendiamo una candela secondo giorno un'altra candela e quindi sono due candele e poi vai a salire 3 4 5 fin quando arrivi a 8 candele se tu prendi il numero delle candele che vengono accese per otto giorni in totale sono 36 candele che sono pari all'ora in cui la ora ganus vuol dire la luce in cui con cui dio ha creato il mondo è rimasta nel mondo perché noi sappiamo tutti che che dio quando dio ha creato la il mondo la prima cosa che ha fatto il primo giorno e luce fu giusto però chi ha letto bereshit che è genesi ha visto che soltanto il quarto giorno ha messo il sole e la luna quindi qual'era la luce quella che c'era prima era una luce primordiale che era l'emanazione di dio ed era quello che ci fa ci dava la consapevolezza che tutto è uno tutto era uno prima della creazione era tutto uno noi potevamo concepire soltanto questa luce questa luce è stata nascosta per il sadikim così c'è scritto che è stata nascosta per i giusti per il futuro vuol dire che che tutti noi se dio vuole dobbiamo diventare giusti per poter assaggiare di questa luce puoi vedere da una parte dall'altra del mondo perché nel momento in cui godi di questa luce ti rendi conto che tutto è uno tutto uno puoi viaggiare nell'uno da una parte all'altra in un secondo puoi capire cosa c'è dall'altra parte del mondo perché è dentro di te la è la fai parte dell'uno lasciarla questa luce c'è scritto che è rimasta soltanto venerdì dio la messa quando ha creato l'uomo e l'uomo ha peccato dopo tre ore giusto quindi ha peccato dopo tre ore dio voleva togliere la luce dal mondo subito dopo che ha peccato il primo uomo dopo che è stato creato alla mattina e alla fine la dama rishon è riuscita a fare un accordo con dio che la luce rimanesse fino a mozzè shabbat vuol dire fino alla fine di shabbat quindi vuol dire che in pratica dalla mattina di venerdì in cui è stata messa la luce di nuovo nel mondo che era per la dama rishon per l'uomo il primo uomo è rimasta 12 ore più altre 24 ore di shabbat in totale fanno 36 ore e vengono a rappresentare le 36 candele di hanukkah quindi il nostro lavoro durante hanukkah è proprio collegarci con quella luce primordiale cosa vuol dire la luce che che ci fa rendere conto che tutto è uno e ogni luce è questa sensazione che quel che che ognuno vuol meritare di di ricevere questa luce e dobbiamo sapere che come per prima cosa la cosa che dobbiamo che vogliamo che se noi adesso durante il periodo di hanukkah abbiamo detto che vogliamo ricevere questa luce la prima cosa la prima condizione se noi vogliamo ricevere questa luce è prima cosa è desiderarla volerla uno può dire vengo lì accendo la candela bella lì no io accendo la candela perché riponoccio voglio che tu illumini la mia vita nello stesso modo come era la luce della prima della creazione io voglio con te col col collegarmi con quella luce la voglio ardentemente la con in italiano che si dica la anelo per avere questa luce e per questo prima dell'accensione quando si preparano le candele o alto c'è chi le prepara di giorno c'è chi prepara prima di accendere quando una persona le prepara con gli stoppini oppure la prepari come la come la prepari la prepari cercare di dobbiamo cercare di concentrarci su 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 quanto voglio avvicinarmi a dio voglio concentrarmi su quanto mi voglio avvicinare a dio e sapere che dio è uno ma ma quanto mi è difficile quanto mi è difficile avvicinarmi a te dio ti prego fammi avvicinare a te lo sai anche tu che i ezzerarà che male ho che male ho che tutto il tempo mi impedisce di avvicinarmi a te ogni volta di continuo mi mette dei pensieri dell'ego mi fa credere che sono qualcuno mi fa credere che mi devono fare devono dire devono pensare tutti come me mi mette la tristezza mi mette la rabbiatura lo conosci anche tu il mio ezzerarà ma il mio istinto al male lo conosci anche tu ebbene mi lo ezzerarà mi riempie di rimbambimenti dalla mattina alla sera mi rimbambisce da una parte all'altra e proprio ragionando e pensando sulla 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 e la difficoltà del lavoro quanto è difficile riuscire avvicinarci a dio soprattutto da dove veniamo dalla posizione in cui siamo e tutto dobbiamo dobbiamo ancora di più dire dio vogliamo dobbiamo anelare ma ma anelare proprio desiderare ardentemente e chiedere a dio col cuore e anche con la bocca perché tutto quello che ci insegna rabbina come che sempre dobbiamo parlare dobbiamo chiedere con la bocca e dire ti prego dio illuminami 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 con la tua luce io adesso accendo la candela e tu accendimi la luce dentro di me e così possiamo riuscire a forse grazie alla 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 alle parole che noi chiediamo diciamo dio ti prego forse forse così magari riesci a darmi un po più di forza grazie alle candele di Chanukah che adesso sto preparando e che 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 tu possa illuminare la mia anima voglio che 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 mi che mi illumini la l'anima per farmi uscire dal buio come mi ha detto diverse volte anche quello che che durante Chanukah durante l'anno tutte tutte le volte che accendi le candele che sono le candele sia di 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 sabato o delle feste si accendono le candele a dieci pugni cosa vuol dire all'altezza di dieci tfahim sono dieci pugni da terra mentre le candele di Chanukah c'è una che c'è scritto nella regola c'è scritto che puoi accenderle fino da scuola da tre pugni da terra tre pugni da terra si chiama din lavud vuol dire che come il proseguimento del terreno come per dire che le candele di Chanukah le puoi accendere fino fino a giù perché perché durante l'anno quando noi facciamo un shabbat o facciamo le feste sono dei giorni così santi e il nostro lavoro è innalzarci il nostro lavoro è innalzarci verso verso la spiritualità mentre mentre durante Chanukah il lavoro è soltanto accendere la candela perché perché Dio scende dove ti trovi ti trovi nel buio dove ti trovi viene lui fino a giù non devi smettere di lavorare non devi mettere le candele più in alto non ti devi innalzare puoi continuare a lavorare dove ti trovi ti trovi la luce viene ti acchiappa c'è poco da fare quindi in questo periodo è buono dire guarda è la festa dove il tuo nome scende fino fino agli abissi più abissi allora puoi arrivare anche da me se vai negli abissi più abissi allora puoi arrivare anche da me non dobbiamo mai arrenderci giusto quindi ti prego fammi uscire dal buio fammi meritare di vivere una vita vera io voglio vivere una vita vera voglio vivere una vita di fede in te voglio vivere una vita di luce questo è quello che voglio non è ognuno di noi deve andare avanti a cercarlo di continuo perché è possibile che magari diventi anche ti avvicini alla torai tutto e dopo un po di tempo ti addormenti non sei il primo a cui succede non sei l'ultimo quindi dobbiamo sempre continuare a chiedere a dio dammi la vitalità dammi la luce questo è quello che dobbiamo fare prima ok ricapitoliamo chiedere desiderare di ricevere la luce dopo nell'atto dell'accensione in sé cosa dobbiamo fare dobbiamo avere la cavana che vuol dire dobbiamo avere l'intenzione nelle parole quando diciamo l'adlik ner hanukah quando diciamo la brachah oppure mentre accendiamo dobbiamo avere i pensieri di accendere la luce nella nostra anima che si accenda che tutti i dettagli della nostra nella nostra vita siano tutti per Hashem che accadosh vauhu riempia tutti tutti gli angoli della nostra vita persino persino alla luce primordiale dobbiamo pensare come abbiamo detto prima la luce è quella che 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 dio ha usato per creare il mondo dall'inizio infatti una volta l'abbiamo studiato era proprio parla la discussione tra bettile e becciamai magari se riusciamo in questi giorni prima di hanukah lo vediamo dice la discussione come mai uno diceva di accendere prima una candela e poi arrivare a otto mentre becciamai diceva di accendere in otto e man mano a scendere è proprio perché volevano assomigliare alla luce primordiale cosa ha fatto la luce primordiale è quella che che si è ristretta e ha lasciato spazio al vuoto dove è creato il mondo oppure la luce che poi dopo quando c'era lo spazio vuoto ha iniziato a entrare dentro il mondo e ha iniziato a illuminare di nuovo e noi andiamo secondo bettile quindi vuol dire che il nostro lavoro è entrare nel buio e iniziare a illuminare e quindi collegarci con quella luce a pensare a quanto tutto era prima della creazione mentre stai accendendo dice anche se lo sentiamo per qualche istante questo pensiero anche se lo abbiamo una minima cosa vuol dire sentire che tutto è la sua luce che è lui che mi dà vita e che io sono nulla ma dalla mia parte io sono nulla ho acceso una candela e lui mi dà così tanta luce ho soltanto acceso una candelina nel posto più basso del mondo nella notte e nelle notti che sono le più lunghe e le più buie del mondo e dobbiamo sapere che invece c'è così tanta forza nelle candele di Hanukkah che può accendere e far accendere il cuore e il concetto è che non c'è altro all'infuori di lui questo concetto possiamo capirlo in particolare durante il periodo di Hanukkah e questa consapevolezza è lo scopo vero di tutta la creazione tutta la creazione deve arrivare a capire quello è lo scopo di ognuna delle nostre anime di arrivare a quello a Israele in particolare il popolo ebraico ha questo lavoro deve arrivare a quello per poi poterlo dire avanti per poi poterlo spingere avanti ma a quello dobbiamo arrivare e quanto più una persona è lontana da questa realtà da questo punto, dalla consapevolezza che tutto è uno e tanto è più lontana dalla verità perché abbiamo detto che quella è la vera verità e questa lontananza è la radice di tutti i problemi quando una persona è lontano dal sapere che tutto è Dio allora è la radice di tutti i problemi mentre il contrario più sei vicino è la radice di tutte le risoluzioni di tutte le felicità questo è quello che dobbiamo fare quando accendiamo dopo l'accensione, anche lì c'è un lavoro da fare dobbiamo guardare le candele e anche lì immergersi nel pensiero dell'unicità di Dio che tutto è Dio che questa luce che ci illumina dobbiamo pensare che questa luce che ci illumina è una forza enorme e in questa luce c'è una forza così grande che può farci cambiare tutta la prospettiva che abbiamo del mondo tutta la prospettiva grazie alla luce di una candelina così dobbiamo sapere che a Chanukah possiamo guardare la luce e sapere che possiamo cambiare totalmente la prospettiva del mondo fino a vedere cosa? Dio in ogni cosa questa è la prospettiva che dobbiamo cambiare vedere Dio in ogni cosa in tutto quello che ci succede ognuno nel suo piccolo ognuno nel suo mondo dove abita nella sua famiglia tutto quello che ognuno di noi passa quello che passa la nostra anima le umiliazioni oppure le felicità ogni cosa sapere che è Dio anche con quello che ci fanno gli altri perché ogni volta diciamo ah quello mi ha fatto così quello che fa no è solamente Hashem è Dio che fa tutto è tutto quello che fa te lo fa per il bene quindi non ci resta soltanto che ringraziare una persona ti ha denunciato vai portagli la torta il tuo vicino di casa non ti ha dato il permesso di fare un lavoro in casa è tutto per il bene ti ha fatto un regalo vai e portali i pasticcini di continuo ringraziare anche Dio per ogni cosa non è andata bene una cosa al lavoro è dovuto cambiare lavoro è per il tuo bene non hai idea di cos'è sapere che tutto viene viene da Dio è una cosa che possiamo acquistare guardando la luce di Chanukah c'è una regola durante durante Chanukah che la Chanukah quindi la luce di Chanukah almeno la prima mezz'ora si può guardare ma non si può usare c'è scritto l'Irotam Bilvat solo per vederla e nella Halakha vuol dire che in pratica quando succede quando hai bisogno di usare la Chanukah la prima mezz'ora non puoi spostarla giusto deve rimanere lì e non puoi metterti lì e cucire a fianco alla luce della Chanukah oggi non è così solita come cosa perché grazie a Dio abbiamo l'elettricità abbiamo la luce quindi nessuno usa la luce delle candele per leggere o per vedere però una volta era una cosa quindi si credeva che la regola era per quello ma come noi ogni volta studiamo che le cose hanno sempre una profondità hanno diversi diversi strati di profondità quello che spiega qua Rab dice che si possono guardare ma non si possono usare cosa vuol dire che una persona non può dire per aver detto che questa luce è la luce che ti dice che tutto è Dio una persona non può dire ah tutto è Dio allora mi siedo e non faccio niente o ti dico ah ma se tutto è Dio cosa vado a fare al lavoro perché devo fare qualcosa perché mi devo attivare perché devo comportarmi bene giusto mi siedo e non faccio nulla tanto tutto tutto quello che succede tutto Dio invece il lavoro che dobbiamo fare quello no la luce che tutto è Dio è soltanto da guardare giusto non da usare cosa vuol dire che quello che devi usare è te stesso tu devi prendere devi fare tutto il tuo possibile nel modo giusto nel tuo mondo ognuno di noi nel mondo ha un lavoro da fare ognuno di noi deve fare il lavoro nel modo giusto e con la giusta intenzione cosa vuol dire deve in fondo deve vedere che come abbiamo detto che l'Irotam Bilvan vuol dire soltanto per vederlo deve vedere che è tutto Dio che fa lui deve fare deve fare il massimo e impegnarsi in quello che deve fare però deve sapere che poi alla fine c'è chi gestisce il mondo e che fa le cose dietro di lui l'unica cosa che come si dice che una persona deve avere la consapevolezza è che l'uomo è solamente un contenitore tramite il quale passa il volere di Dio è come se siamo una cannuccia quindi il nostro lavoro ogni volta è cercare di essere il più pulito possibile perché almeno il volere di Dio può passare tramite noi e non lo sporchiamo con i nostri voleri giusto Dio adesso vuole che dai dei soldi per i poveri però tu intanto vedi un posto che vende gli hamburger e dici ok però dai i soldi per i poveri tiro giù una minima perché mi voglio comprare un hamburger e noi vogliamo essere una cannuccia pulita vogliamo essere una cannuccia che Dio ci usa come una cannuccia per far passare il suo volere questo è quello che dobbiamo fare quindi facciamo le cose con felicità ogni cosa se sai che è il volere di Dio ogni cosa che stai facendo allora dobbiamo farle con felicità perché è il volere di Dio è il volere divino e quindi dobbiamo fare le cose sapendo che è il volere di Dio con felicità abbiamo detto e anche con tranquillità è uno dei segreti per riuscire in qualsiasi cosa tutto a posto con tranquillità interiore e umiltà l'importante anche quello ci aiuta una marea quando sai che tutto viene dalle mani di Dio allora riesci a fare le cose con più umiltà e sapendo che tutto viene da Lui se Dio vuole speriamo di riuscire a rafforzarci in questa cosa abbiamo fatto così velocemente perché Hanukkah sono quattro step diciamo di non voglio dire cavanozzo le intenzioni semplici che si fanno quando si accende la 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 Hanukkah per pensare all'unicità di Dio e non dimenticarci che tutto quello che succede è solo Lui chi riesce a farle come abbiamo detto prima ma anche un istante se Dio vuole Hanukkah Sameach